Buongiorno, mi chiamo Flavio Fusi e sono un giornalista. Il mio pezzo da museo è un piccolo oggetto a cui tengo molto, è un porta sigarette, un oggetto che oggi non si usa quasi più, un porta sigarette che però porta il disegno di Berlino, Berlino diviso in zone di influenza, una parte dell'Unione Sovietica, dall'altra l'Inghilterra, la Francia e gli Stati Uniti. Quindi questo porta sigarette fu realizzato negli anni 50, prima che fosse costruito il muro di Berlino che fu costruito nell'agosto del 61. Questo oggetto è importante per me anche perché io l'ho trovato tanti anni dopo, nel dicembre del 94, a Sarajevo in una piccola bottega nel quartiere musulmano e il dicembre del 94 è proprio il mese in cui finì il lungo e terribile assedio a Sarajevo. Quindi questo oggetto che io ho da moltissimi anni, quasi 30, è una specie di segnatempo, di macchina del tempo, per il mio tempo personale e professionale, ma anche per il tempo della storia, la storia europea e come eravamo e come non siamo più.